Ci troviamo in via Circonvallazione, Caselle Torinese, adiacente alla nuova stazione, quindi comodo ai servizi del centro storico. Entriamo nella prima stanza, troviamo due camere cucina e bagno, camera che ha l'accesso al balcone, sia questa che l'altra. Questa è la seconda stanza, le pavimentazioni sono state riviste e come vedete anche da questa stanza possiamo accedere al balcone. Il balcone che vi faccio vedere, così capiamo insieme a meglio la zona, nuova stazione di Caselle e da quella parte di là troviamo il centro storico. L'ho alzato un attimo perché non volevo riprendere altra gente. Poi questo è l'ingresso, non abbiamo la porta blindata, ci troviamo un ripostiglio sempre comodo e un bagno completamente rifatto a nuovo con attacco della lavatrice, vasca da bagno, doccia, dove sarà poi da mettere il box, doccia e i sanitari. Troviamo ancora la cucina, abbiamo una doppia esposizione, anche la cucina ha un balcone che ci porta nell'interno del cortile. E questo è il giardino condominiale e questo è quanto.